Continuano le proteste per la chiusura al traffico delle due ruote disposta dalla provincia dell'Aquila che interessa circa 30 strade nell'Aquilano. Il presidente della provincia Caruso però annuncia un nuovo affidamento dei lavori di riparazione messa in sicurezza degli arteri stradali per un valore di 257 mila euro. La denuncia parte dal presidente dell'associazione motociclisti aquilani Massimiliano Marifiamma che si oppone alla decisione di chiudere anche la Turanese. Caruso ha annunciato l'assegnazione dei lavori che consentiranno però la rimozione su alcune arterie del vincolo di divieto alla circolazione di cicli e motocicli, oggetto di ordinanza dirigenziale. Un provvedimento insufficiente però, secondo Michele Malafoglia, portavoce comunale di Fratelli d'Italia. Al solo fine di giustificare il disastroso operato del dirigente Bonanni, dice, l'amministrazione provinciale ha proceduto a chiudere anche la Turanese impedendo il valico di Monte Bove a moto e bici, dice Marifiamma in una nota. Il provvedimento che riguarda strade montane di Reggio che attraggono turisti ha fatto di vampare polemiche finite anche a livello nazionale. Marifiamma ora chiede l'intervento del vicepresidente dell'Aggiunta regionale Lolli per portare a più miti consigli e la provincia, scrive. Intanto, a seguito dell'approvazione del bilancio e il successivo decreto del 24 aprile, i lavori sono stati dati in affidamento. Il presidente Caruso si legge in una nota si è impegnata a favorire nel menor tempo possibile e con la collaborazione dei consiglieri delegati alla viabilità Gianluca Alfonsi, Pierluigi del Signore, Mauro Tirabassi e la struttura della viabilità, eccezionali misure per la manutenzione e il rifacimento del manto stradale sulle arterie regionali e provinciali di competenza dell'ente, lavori che consentiranno di poter fruire delle carrabili in totale sicurezza. Ma le proteste non si placano.